Che ne so? 8.50 E' una serie che non ha bisogno di grandi presentazioni Perché è un mito di 70, un mito della televisione, un mito della fantascienza Avete visto che il trattamento di questa nuova versione è molto diverso da quello che tutti ci ricordiamo Abbiamo la fortuna e l'olore di avere qui la protagonista Mi hanno messo un microfono bizzarro, non pensavo che ci fosse questo tipo di microfono Non so se Michelle vuole dire qualcosa prima di cominciare Poi lasciamo senz'altro la parola alle vostre domande Alle quali potrà rispondere domande in italiano con il traduttore E risposta poi di Michelle con il traduttore Quindi era meglio da dire Adesso lo sapete se possiamo usare in generale Certo, certo, assolutamente Guardate sci-fi solo su Steele Grazie 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 Qua gli hanno 200 milioni di euro Sì, di questa cosa Allora, se ci sono...